Allora, c'è Colpo Gobbo che si sta caricando con un bel caffettino perché gli ho raccontato che sarò bastardo con lui oggi, quindi ciao Lello, grazie per esserti prestato a questa follia. Sai che questo giochino è molto bello, intanto ti ringrazio per l'invito, ma è molto bello anche da fare e riproporre agli altri. Bello, vero? Bello, bello, bello. Mi sto bevendo il caffè perché io con i numeri non è che ci vanno a parecchio d'accordo, quindi... Allora raccontiamo ai ragazzi che ci stanno ascoltando che giochino è. Io adesso andrò a dire otto nomi a Lello, otto nomi di allenatori, che l'anno prossimo potrebbero allenare a Juventus come no. Otto perché sono i nomi un po' più... che circolano di più. Lello dovrà dirmi la percentuale di possibilità, secondo lui, che questi allenino a Juventus l'anno prossimo, prima, e poi la percentuale di preferenza di questi allenatori. Ma c'è un però, il giochino è bastardo perché Lello non saprà subito tutti gli otto allenatori. Quindi dovrà cercare di ponderare la sua media. Lidero il primo, poi il secondo, poi il terzo, poi il quarto e così via. Ok? Ci sei Lello? Sei pronto? Vado. Ok, ragazzi ovviamente passate sul canale di Lello che è uscita prima di questo video, anche una chiacchierata che abbiamo fatto insieme, quindi vi lascio i tag qui nel titolo e nella descrizione. Allora, primo allenatore, possibilità che alleni la Juventus l'anno prossimo? Massimiliano Allegri. Beh, 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 beh. Secondo te? Io ho un 10% di possibilità di permanenza alla Juve, li do? 10%, io ad oggi li do 5. Ci può stare. Gradimento? No, 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 prima facciamo la possibilità. Sì, 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 prima facciamo la possibilità, così il gradimento sei in grado di dare a seconda dei nomi. Ok? Prima possibilità, sono stronzo ma non fino alla fine. Ok. Antonio Conte? 5%. 5%. Io ti dico anch'io 5%, d'accordo. Zinedine Zidane? 10. 10%. Cioè, quindi perché Allegri e Zidane sono possibili uguali? Sì, poca roba però, eh. Ok. Io do un 3%. Luciano Spalletti. 20%. Oh, attenzione, il nome più grosso di Lello questo. Sai che... Allora, questo secondo me dipende da Giuntoli, no? Eh, esatto, esatto. Sei convinto che arrivi qualcosa in più? Io ti metto 10%. 10%. Beh, che in proporzione comunque rispetto ai voti che hai... Cioè, le percentuali che hai dato prima è abbastanza... È alto. Ok. Roberto De Zerbi. 0%. 0%. 0%. Io dico 2%, così completiamo quel 5 di prima. Vincenzo Italiano. 20%. 20%. 20%. Tanto 20%, eh? No? Sì, è tanto, però mi chiedo, dopo la conferenza eventualmente vinta, che cosa posso fare di più. Io ho perso completamente i conti, poi andiamo a sistemarli, ovviamente andiamo a bilanciarli, perché io anche qua do un 10%. Io dovrei essere a 55-60, già. Io non lo sto assolutamente tenendo, poi apriamo la tabella e li mettiamo a posto, avremo delle percentuali tipo te del 120%, io del 12%, una roba del genere, ma li sistemiamo, cerchiamo di fare delle proporzioni adeguate. Igor Tudor. Eh, beh, beh, 25%. 25. Io ti dico 50%. Per me, Tudor è il nome più probabile. Paolo Montero. Zero. Zero per cento. Io ti dico che va a 5 perché il momento di crisi è passato ed era quello che mi avrebbe fatto vendere per. Ok, io ti dico che la mia somma va a 90. Va a 90%. E la tua va a 90%. Quindi siamo stati comunque abbastanza bravi. Marsimoniosi. Ok, quindi ti chiedo, ti mostro anche le tue percentuali, così mi fai sapere. Eccole qua. Dovresti vederle. Dove vuoi aggiungere questo 10% rimanente, dato che la somma fa 90? Ma, allora, aggiungi un 5 a Zidane e un 5 a Conte. Quindi 15 Zidane e un 5 a Conte. E un 5 a Conte. Quindi per te, bene o male, 0% De Zerbe e Montero. Sì, perché De Zerbe rimane là, Montero secondo me farà ancora la gavetta interna alla Juventus. Ok, quindi Conte e Allegri invece sono i due un po' più difficili, secondo te. Seguiti poi da Zidane. Che difficile, ma... Che sì, però c'è un podio di tre con Spalletti italiano a pari merito e Tudor, che secondo te è il tuo più probabile comunque, no? L'unica cosa che potrebbe far saltare Spalletti è questa benedetta clausola, in caso di dimissioni anticipate, che lui non possa allenare in Italia, che a quanto pare esiste. Però, secondo me, in indice di gradimento per la Juve, Spalletti, qualora arrivasse giunto lì, secondo me è un nome che salta fuori, salvo questa clausola. Ok, quindi a questo punto io devo aggiungere dieci, io ne metto due di qua e andiamo a cinque, tre di qua e andiamo a cinque, e poi ne mancano cinque, e cinque a questo punto li metterò su Allegri, va? Quindi cento per cento anch'io. Quindi per me è di gran lunga Tudor, ma proprio di tanto il nome più probabile, secondo me, per Juventus l'anno prossimo, con italiano Spalletti, al secondo posto, pari merito con la permanenza di Allegri e vedo Conte, Zidane, De Zerbi e Montero, dei nomi difficilmente percorribili. E sopra abbiamo la preferenza, e qua si apre un mondo, perché qua è proprio tutto soggettivo, qua è tutto discorsivo. Quindi vai, prego, ti faccio completare a te. Zero. Zero, ok? Cinque, Conte. Cinque. Trenta, Zidane. Trenta, Zidane. Cinque, Spalletti. Cinque, Spalletti. Venticinque, De Zerbi. Venticinque, De Zerbi. Ti sto complicando la vita, eh. Dopo li mettiamo a posto, non ti preoccupare, non fare i conti. Quindici, Italiano. Quindici, Italiano. Zero, Montero, che secondo me deve restare là, e il restante è tutto su Tudor. Quindi venti su Tudor. Ok, vuoi motivarmi? Sì, allora, Zidane, a mio parere, c'è una falsa narrazione su di lui. È un gestore. No, in realtà è uno che ha studiato tatticamente anche con la squadra e ha adottato delle soluzioni tattiche ben precise, tra cui Casemiro, che non veniva utilizzato prima da Ancelotti, è diventato centrale. Anche le uscite, palla da dietro, con i famosi triangoli, si vede che c'è uno studio maniacale della situazione, per cui è anche un uomo di campo. Quindi il tuo preferito è Zidane. Sto guardando adesso. Il tuo preferito è Zidane. Perché poi conosce già l'ambiente Juve, a mio parere è un nome che riuscirebbe ad unire tutta la tifoseria e avrebbe grande rispetto da parte dello spogliatoio, rispetto a magari altri che hanno grandi innovazioni, ma sai, quando giochi col campione o quello che c'è da tanto alla Juve, se c'è un minimo d'attrito è un casino. Zidane, secondo me, da quel punto di vista è impeccabile. Allora, io invece, guarda, facciamola parallela. Io invece non sono così dell'idea che Zidane possa essere il nome giusto, gli do una percentuale bassa che è del 10%, ma non per il discorso gestore, ma perché è un nome grosso, è un nome ingombrante. E anche economicamente costa tanto. Esattamente. Dato che la Juventus l'anno prossimo, secondo me, non dovrà ragionare sul binario del nome, del costo, appunto, ma da lavorare dal basso con quelli che hanno fame di arrivare, Zidane è uno che non ha fame di arrivare, Zidane è uno che ha fatto la storia del Real Madrid in Champions League, da allenatore, purtroppo lo sappiamo molto bene, quindi non lo vedo il nome che secondo me in questo momento potrebbe servire la Juventus, quindi gli do molto, molto basso, un 10%, ok? Vuoi motivarmi quegli altri? Dove vuoi andare? Ma Spalletti non lo so, è stato molto bravo a Napoli, però non vorrei che fosse un exploit di un posto, una situazione, un contesto dove tutto va per il verso giusto e quindi non mi convince pienamente. Mi piace molto di più per esempio De Zerbi, che sta facendo bene al Brighton, ma mi piace proprio perché parla di calcio, quando lo senti parlare nelle conferenze, parla di campo ed è uno anche che si è confrontato in diversi contesti e ha fatto sempre bene, quindi a riprova del suo grande lavoro. Italiano un po' meno rispetto a De Zerbi, però diciamo che va su quella scia là dal punto di vista del tipo di allenatore. Tudor 20, secondo me è qualcosa in meno, tatticamente parlando di De Zerbi, però è un allenatore che quando è stato alla Juve aveva grande rispetto di tutta la squadra, quando è stato nello staff di Pirlo e e poi col Marsia secondo me ha fatto discretamente, dai, non è stato male. Ok, allora prova a darti un po' di percentuale anch'io. Allora, ad Allegri io do un 1% e ti spiego anche da dove nasce. Il ricoraggiamento. No, 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 è un 1% che secondo me è uno scenario molto distante dalla realtà, però metti il caso che arriva Giuntoli e Giuntoli mi dice, guarda, per me, l'allenatore, no, per me l'allenatore giusto mi deve dire, poi non lo dirà mai, però dentro alle mura della continassa durante l'unione mi dice, l'allenatore giusto secondo me è Massimiliano Allegri e credo che sia un scenario molto distante dalla realtà, in quel caso lì tengo Massimiliano Allegri, però ribadisco, secondo me siamo molto molto distanti dalla realtà. Conte un altro nome ingombrante, no? E quindi, secondo me, abbassa molto il discorso legato alla sua utilità, però effettivamente servirebbe un allenatore come Conte, ma diverso da Conte, cioè in grado di dare lo stesso tipo di lavoro che riesce a dare a Conte nell'immediato, nella creazione di una squadra rognosa di un gruppo di un certo tipo, senza il palmarès di Conte, i trascorsi di Conte tra Juve, Inter e tutto il resto, però ti dico, uno come Conte secondo me sarebbe molto importante, quindi do un 15, per me è molto più utile uno alla Conte. La cosa che mi spaventa per esempio di Conte è che ho dato un voto così basso, che ultimamente lo vedo con le polveri bagnate. Sì, sì, assolutamente. Mi sento di entusiasmo voi rispetto a quando ce l'avevamo noi, eh? Assolutamente. Che ha un fuoco, un fuoco anche troppo, forse un po' too much. Invece adesso è proprio, boh, non lo so. Assolutamente, no, ma su questo sono assolutamente d'accordo, infatti ti dico, preferirei paradossalmente leggermente uno come Spalletti, che comunque è un nome ingombrante, ma non così tanto, è una percentuale minima, però c'è, però secondo me non è Spalletti l'allenatore giusto per questa Juventus, sono abbastanza onesto nel dirti questo. E qua siamo a 42, quindi a Montero do un 3% per arrivare a 45, d'accordo? Ok, ci siamo. E rimangano questi tre buchi qua, rimangano questi tre buchi qua, 45. I miei due nomi più grandi sono questi due, sono De Zerbi e Italiano, ti spiego anche le motivazioni. Vai. De Zerbi per un motivo, è un allenatore che ha allenato anche altri campionati e secondo me questo deve essere qualcosa di molto importante. Tante volte leggo, non deve più essere italiano perché no, a me va bene anche che sei italiano ma che si sia confrontato con altre leghe, d'accordo? E quindi De Zerbi l'ha fatto. È capito che la bontà del suo lavoro sia stata, abbia avuto dei risultati, dei feedback sul campo o in altri campionati. Certo, certo, perché Shakhtar prima dell'interruzione della guerra era lì e col Brighton, non serve nemmeno dirlo, ha raggiunto l'Europa. Col Brighton è come che abbia vinto lo Scudetto in una squadra che sta lottando per lo Scudetto perché è la prima volta che raggiungono l'Europa. Infatti sto dicendo, mi pare che sia la prima volta che raggiungono l'Europa. Quindi il mio nome più alto di tutti probabilmente è questo qui, se devo essere sincero. Poi devo sicuramente riaggiustare un attimo le percentuali, ma è così. Forse in realtà non è così, però va bene. Quello dopo è italiano, perché a me l'italiano piace tantissimo. L'altro giorno leggevo che negli anni è sempre andato più in alto, cioè vince una Serie D, vince una Serie C, vince una Serie B, si salva in Serie A, recupera la Fiorentina dopo anni che la porta... Lotta per la retrocessione, lui la prende la porta in Europa. La porta metà classifica, sì, un po' più della metà classifica. Va a lottare per due coppe, cioè mi sembra l'allenatore italiano, brutta battuta, ma è così, che allena in Serie A con più potenzialità di tutti, secondo me. La cosa anche che ti dico e che mi hanno detto è che è Gobbo Marcio lui in realtà. È Gobbo Marcio, è Gobbo Marcio. È Gobbo Marcio, nel senso che quando vinse Conte il primo Scudetto dice che lui era per strada, a brindare, festeggiare per la vittoria del Scudetto della Juve. Aggiungo un'altra stranezza su Giovanni Italiano, non Giovanni, Vincenzo Italiano e mi ricollego invece a Giovanni Tedesco. Giovanni Tedesco è nato in Italia e allena in Germania, Giovanni Italiano allena Vincenzo Italiano, porca miseria, adesso sto facendo come progetto e processo con te. Vincenzo Italiano è nato in Germania e allena in Italia, ci faceva molto ridere. Ok, allora vado un attimino a rimodulare le mie percentuali, così dovrebbe fare 100, ci ho fatto bene i conti, esattamente. Hai fatto gli spostamenti in una rimodulazione simile a quella che è stata la sanzione della Sì, ma guarda che l'hanno fatta così, la sanzione l'hanno fatta così, non faceva 100, allora, no, è per mettere comunque Tudor un po' dopo, vado a spiegarti, è il terzo, ovviamente poi le percentuali asciano il tempo che trovano, penso che sia più interessante la classifica finale a seconda del podio, perché Tudor secondo me è interessante perché comunque c'è già stato la Juventus, è già stato la Juventus, ha dimostrato comunque tra Serie A e adesso quest'anno in Marsiglia, di poter raggiungere dei buoni risultati, l'anno scorso l'Ella Sverone in Serie A veramente ha fatto delle robe che ha toccato quasi l'eccellenza e basti guardare la mano di Tudor l'anno scorso e dov'è l'Ella Sverone invece in questa stagione, basti guardare in Marsiglia. Tamezza sembrava un Vira dei vecchi tempi, invece adesso anche il rendimento suo è calato, per cui la sua mano si è vista l'anno scorso. Quindi secondo me è assolutamente un nome che si può fare, la cosa che mi fa riflettere guardando i tre profili degli allenatori che sono preferiti nella mia testa, escludendo Spalletti, perché secondo me Spalletti potrebbe avere senso e secondo me ne ha poco, ma se arriva Giuntoli e dice d'accordo, però io con Spalletti ho lavorato talmente bene che sono sicuro che in questa situazione, però sono tutti e tre allenatori della nuova generazione, sono tutti e tre allenatori che hanno raccolto dei risultati in piazze anche comunque tranquille, sicuramente non a livello della Juventus, ma sono tutti e tre allenatori che hanno fame, che hanno un'idea di gioco anche diversa tra di loro, ma che sono in grado di applicarla alla squadra e valorizzare determinati giocatori attraverso il campo, che secondo me in questo momento in cui la Juventus non è proiettata alla vittoria, questo deve essere il focus principale. Quindi siccome l'identikit al di là potrebbero essere altri nomi, deve essere bene o male questo. Sono d'accordo con te e mi piace anche che hai fatto questi nomi dalla chat, adesso sono abituato a tutti i stili Twitch, in realtà nei commenti magari troverai qualcuno che ti dirà magari di questi hanno vinto in pochi, però ragazzi la Juventus storicamente ha sempre preso allenatori che in realtà vanno, come ha detto Beneluca, fame, voglia di dimostrare e voglia di imporsi su una piazza, oltretutto il vincere non è mai determinante per la bravura di un allenatore, ci sono allenatori che nelle loro piazze vincono in base a quelle che erano le aspettative iniziali, in base ai budget, in base al tipo di squadra, De Zerbi e Italiano, secondo me su tutti tra questi sono quelli che hanno dimostrato con tante idee e meno soldi di altre di ottenere obiettivi straordinari, per cui sono nomi che mi piacciono tutti. Mi piacerebbe fare anche un giochino, dato che l'abbiamo fatto io e te, ma queste stesse percentuali di ritrovarmele comunque neanche nei commenti, di probabilità secondo loro e di preferenza secondo loro, e se è sfuggito qualche nome che sta circolando, io per dire un altro dei nomi... Tiago Motta che potrebbe esserci... Secondo me poteva esserci Nagelsmann che era un nome chiacchierato, però mi sembra distante da quello che potrebbe essere la Juventus oggi, c'è Dionisi del Sassuolo, ma anche questo mi sembra un nome distante, quindi questi otto secondo me erano i nomi più chiacchierati per un motivo o per un altro, più discussi, più anche realistici, alcuni di più, alcuni di meno, quindi secondo me il giochino è stato interessante e queste sono... Poi la Juve ci sorprende, prende Marcello Gagliardo dal Free Agent, mi stupirebbe, però anche io se dovessi fare i nomi insomma papabili direi questi qua, non ne aggiungerei altri. Beh, è più clamoroso dell'anno in cui ha scelto Pirlo che era stato preso per Under-23, credo che non ci possa essere niente, quindi insomma abbiamo passato il momento di... La Juve stupisce, la Juve stupisce. Bene, quindi bene o male comunque se hanno dell'idea che l'anno prossimo Allegri non sarà l'allenatore della Juventus, cioè tutti e due ci aspettiamo questa cosa qua, tra l'altro leggevo Monblano dato che lui è il re delle percentuali, no? Lui è il re di chi azzecca le dimissioni, cioè le dimissioni o la questione Allegri, lui l'ha sempre presa, quando disse tempo fa, a me lo disse a Pirlo, quest'anno Allegri e così è stato. Eh, parlava di 21% in discesa con Giuntoli invece è sempre saldo al 100% e secondo me quello è la partita decisiva perché, ripeto, per me è uno scenario che non esiste, arriva Giuntoli, mi dice no, è l'allenatore da cui voglio ripartire, quindi secondo me l'arrivo di Giuntoli è in parallelo anche l'addio di Allegri. Questa, dato che continuo a chiedere ma secondo te Allegri rimane? Ecco, questo credo che sia il video definitivo in cui vi racconto le mie sensazioni inerenti e anche le mie preferenze perché poi la sensazione è una, la preferenza è un'altra. Vuoi concludere in qualche modo? No, è un gioco molto interessante quello che hai fatto e vedi però il mood come cambia dal video che ho fatto io in cui stavamo parlando di cose brutte attuali, già il proiettarsi con un nuovo allenatore, stuzzicarsi così, ti riaccende la fiammella e la voglia di tornare sul campo con una nuova voglia, con una nuova squadra e andare a vincere e quindi bene. Io vincere è una parola che in questo momento tengo calda. L'obiettivo deve essere quello, poi riuscirci un'altra cosa. L'obiettivo deve essere tornare a vincere senza per forza darti l'obbligo di farlo in un anno perché se poi, come dicevamo, ci sarà una penalizzazione dentro già l'anno prossimo parte già con una penalizzazione. Vincere è l'obiettivo. Questo secondo me è il tramite con cui ci può arrivare la Juventus nella situazione attuale e quindi i nomi ingombranti come Allegri, Zidane, Conte li lascerei momentaneamente da parte. Questa è un po' la mia posizione. Però sarebbe bello già arrivare, per esempio, che cavolo ne so, a giocarti una Coppa. Sono finito in Coppa Italia. No, no, ma nel senso non Coppa Italia l'anno prossimo, che quello sarebbe anche già una gran cosa. Sì, già ti strappi un biglietto per l'Europa League. Non intendo arrivare in classifica con un'eventuale penalizzazione, già è nelle zone alte di classifica e dimostrare che intanto la Juve è tornata. Ah, beh, quello sarebbe meraviglioso. Cioè, praticamente, tra virgolette, ti faccio un parallelismo. Il Monza senza Palladino nelle prime sette è andato malissimo. È arrivato Palladino. Adesso il Monza è alla prima posizione in Unione Europea. Tra l'altro leggevo che insieme a Liverpool, Borussia Dortmund, non mi ricordo, forse City è l'unica squadra che non aveva perso mai da aprile ad oggi. Cioè, sono qua Liverpool, City, Dortmund e Monza. Fa riderissimo il Monza che aveva scherzato su sta roba su Twitter. Ah, anche Palladino è un nome discusso, eh. Eh, sì, non l'ho messo perché secondo me è un nome un po' distante davvero da quello che è. Però, vedi, te la vedi come quelle sette giornate sono la penalizzazione, le prime sette che sono andate male e poi comunque col lavoro si è venuti fuori. Quindi magari ci sarà una penalizzazione, magari di una ventina di punti, 3 per 7 fa 21, però poi le altre giornate me le devi tutte giocare e vedere dove arrivi poi. Se arrivi bene, se non arrivi sai che ci sono delle motivazioni. Niente, questo è quanto. Grazie Lu. A te Lello. E come dicevo prima c'è il link, i tag per andare a vedere anche l'altro video che abbiamo confessionato insieme. Un abbraccio Lello, alla prossima. Ciao. Ciao, ciao.